La comparsa sul mercato della serie 971 ha cambiato l'idea dei fonometri di classe 1. Le ridotte dimensioni e il peso sono oggi apprezzati dai professionisti che effettuano misurazioni con uno strumento palmare. Nonostante le piccole dimensioni, SV971A misura i risultati a banda larga con tutti i filtri di ponderazione necessari e filtri di banda di un'ottava o un terzo di ottava. Offre anche la registrazione di eventi audio che permette di ascoltare e riconoscere le sorgenti di rumore. Lo strumento include un sensore di vibrazione integrato che fornisce informazioni sulle vibrazioni che potrebbero influenzare le misurazioni e ruota anche lo schermo quando lo strumento viene tenuto in posizione orizzontale. SV971A è dotato del nuovo microfono di misurazione che offre la gamma di misurazione lineare LAEQ da 27 a 137 dB, 140 dB di picco, in un'unica gamma. Il design migliorato del microfono garantisce una stabilità a lungo termine della sua sensibilità ancora superiore. SV971A utilizza la nuova interfaccia Bluetooth a bassa potenza che consente di visualizzare in anteprima i risultati correnti su uno smartphone o tablet e di controllare l'avvio o l'arresto della misurazione. L'applicazione Assistant emette anche un allarme quando vengono superati i limiti di rumore impostati. Con l'applicazione Building Acoustic Assistant, SV971A può essere controllato a distanza da un tablet o uno smartphone. L'applicazione mobile utilizza impostazioni predefinite che rendono le misurazioni dell'acustica degli edifici in più punti facili e veloci. La misurazione di acustica edilizia può essere eseguita con uno o due strumenti contemporaneamente.